Buonasera, Sadhguru. Il mio nome è Pinky Bardoage e vorrei chiederti qual è la definizione di realizzazione di sé, secondo te. E un essere umano normale come noi può mai raggiungere quello stadio? Devo dirti, quando per la prima volta abbiamo iniziato ad insegnare questi programmi di ingegneria interiore, l'opuscolo che avevamo diceva, dall'ordinario allo straordinario. Quindi la gente viene, all'epoca era un programma di 14 giorni, e dopo il secondo o terzo giorno vengono e dicono, Sadhguru, non mi sta succedendo niente di speciale. Ho detto, non ho mai detto che ti sarebbe successo qualcosa di speciale. Ma hai detto, dall'ordinario allo straordinario? Sì, ho detto, diventerai più ordinario degli altri. Perché la malattia più grande sul pianeta è che le persone vogliono essere speciali. Se solo accetti di essere semplicemente ordinario, come sei? In un certo modo hai già fatto un enorme passo spirituale. Va bene? Che tu abbia accettato la natura della tua creazione? Questo di per sé è un grande passo. Questo non significa dire, ok, tutta la mia natura assurda va bene. Non è quello. Che sei solo ordinario. Non stai cercando di essere speciale. Essere speciale significa che cerchi di essere un gradino sopra qualcuno tutto il tempo. Il che ti è stato insegnato fin dalla scuola materna. Sei primo o secondo? Cosa? Dal primo giorno. Assurdità. Vedi, quando vuoi essere il numero uno, che è il posto davvero speciale che le persone cercano, quello che significa è che in qualche modo godi dell'incapacità e delle sofferenze delle altre persone. Non è questione di te che sbocci in una vita assolutamente completa. È questione di essere un gradino sopra qualcuno tutto il tempo. Ma questa non è la natura della vita. Questa è la natura di un intelletto scarso, un intelletto molto scarso, che vuole disperatamente dimostrare di essere speciale. Ma la natura della vita è così. Che sia un verme, una cavalletta, una pianta o un albero o qualsiasi cosa, se osservi qualsiasi vita, tutte queste forme di vita si sforzano per diventare una vita assolutamente completa. Questo è anche tutto lo sforzarsi dell'essere umano, diventare una vita completa, in ogni dimensione. Ma l'unico problema dell'essere umano è? Sappiamo chiaramente cos'è un verme assolutamente completo, o una cavalletta, ma non sappiamo cosa sia un essere umano assolutamente completo. Questo è un problema, perché la natura ha tracciato due linee per ogni altra creatura, entro le quali esse vivono e muoiono. Ma per l'essere umano c'è solo una linea inferiore e non c'è linea superiore. Ed è questo che gli esseri umani stanno soffrendo. Non stanno soffrendo i loro vincoli. Stanno soffrendo la loro libertà. Questo è un problema serio. In quanti modi stai cercando di creare vincoli per te stesso? Osservalo ogni giorno. Perché vuoi che qualcosa ti leghi, così da sentire che appartieni a qualcosa, altrimenti cos'è questo? Nel mezzo del nulla. Voglio che tu immagini solamente, in questo cosmo non sai dove sia questo maledetto sistema solare. Come diavolo il tutto si è mantenuto insieme. Puoi credere a una storia semplicistica, ok, Dio si è tutto là e fa muovere tutte queste cose, ma nemmeno un bambino dell'asilo ci crederà tra 10-15 anni. Credimi. Sì, tra altri 15-20 anni vedrai. Un bambino di 5 anni non crederà a queste cose. Quindi, la realizzazione di sé. Come sai che esiste un sé? Di nuovo una supposizione, non è vero? Vedi, le credenze sono così. Possiamo farti credere a qualsiasi cosa, se lavoriamo con sufficiente impegno su di te dal momento in cui nasci. Queste credenze sono giunte con ogni tipo di conclusione. Quindi, innanzitutto, la prima cosa è di liberartene. Liberati dalla cultura, dalla religione. Goditi la cultura. La cultura è il colore che indossiamo. Goditi la cultura, ma la cultura non è uno strumento efficace per la ricerca delle verità. Perché la confusione che facciamo oggi è la cultura di domani. Ciò significa che la confusione che hanno fatto ieri è la cultura di oggi. Pensi che sia stato pensato correttamente? Tutti fanno le loro cose. E quella diventerà la cultura di domani, non è vero? Allo stesso modo è successo in passato. Non pensare che nel passato tutto fosse sacro e tutto fosse meraviglioso. No, anche loro erano confusi. Hanno fatto quello che hanno fatto e quella è la nostra cultura. Godiamoci la nostra cultura, indossiamo la nostra cultura, preserviamo la nostra cultura, nutriamo la nostra cultura, ma non è uno strumento per la ricerca della verità. Per quello devi liberartene completamente. Allora, se te ne liberi completamente, non sai se ci sia un sé oppure no. Quindi, come realizzi una dannata cosa che non sai se esista o no? Allora la ricerca diventa reale. Il cercare diventa genuino.